Il sonno in cui passiamo circa un terzo della nostra vita è il momento nel quale il cervello cambia modalità di funzionamento. Da un funzionamento in cui siamo in parte coscienti come ci viene durante la veglia, andiamo in un funzionamento automatico di cui non abbiamo coscienza. Ecco che nel sonno ci sono tutte e due le modalità, quella della massima conservazione dell'energia, che è il sonno lento, nel quale il sistema nervoso vegetativo si spegne piano piano e consumiamo pochissima energia e la fase cosiddetta dei sogni, la fase REM, dove invece abbiamo il massimo dell'esplosione della funzione vegetativa. Quindi pur non essendo cosciente, nel sonno abbiamo il massimo e il minimo dell'attività vegetativa, che sono indici anche di come siamo in salute durante la veglia. E quindi è molto importante che uno abbia un sonno regolare, ben costruito, ciclico, nel quale questa modalità, sia di recupero energetico, sia di spesa energetica, siano ben rappresentate in tutte le loro fasi.